E adesso è arrivata l'intelligenza artificiale e allora è successo davvero qualcosa perché quello che sta portando è che è un mondo in cui l'intelligenza artificiale tocca tutti, tocca le persone, tocca le aziende, tocca le istituzioni e tocca la società in generale, c'è bisogno di consapevolezza, lo dobbiamo sapere, non tutti lo sanno, sentono parlare di intelligenza artificiale, se ne parla un po' dappertutto ma poi manca il cosa fare, cioè cosa dobbiamo fare e allora ad esempio le piccole, le medie imprese hanno delle grandi opportunità e infatti come dire in questo momento il dipartimento, l'agenzia per l'Italia digitale se ne sta occupando e avete visto che energie sta mettendo in campo e anche le vecchie strutture delle aziende stanno cambiando, si stanno trasformando, devono trasformarsi ma bisogna dire come e se riusciamo a farlo per tempo tutto questo porterà un grande cambiamento che ci aiuterà proprio come paese, non possiamo permetterci di perderlo.